Buongiorno a tutti cari amici elettronauti e benvenuti come ogni domenica nelle news elettriche della settimana. Apriamo la nostra rassegna stampa parlando di guida autonoma di livello 3 che diventerà legale il 14 luglio quando anche l'Italia riceperà la modifica della Convenzione di Vienna sulla circolazione e sul traffico a cui il nostro paese aderisce. Questo livello di guida autonoma consente in sostanza di essere trasportati dall'auto permettendosi anche di staccare le mani dal volante. Infatti secondo i requisiti del livello 3 c'è un sistema centrale in grado di agire su sterzo, freno e acceleratore. Tutto molto bello certo ma ci saranno dei limiti e in questo caso secondo me sono veramente assurdi. Infatti si potrà circolare con questa modalità solo su arterie stradali a carreggiate separate senza pedoni ciclisti e a velocità inferiori di 60 km orari. Quindi cioè fatemi capire ok le carreggiate separate ok la mancanza di pedoni ciclisti tangenziali e autostrada in pratica ma il limite di velocità è ridicolo dato che in autostrada non ci si può muovere a meno di 90 km orari e in tangenziale il limite massimo è 90 e se vai a 60 ti insultano in aramaico antico. Non credo che sarà proprio una rivoluzione sto guida autonoma di livello 3 o no? Inoltre come è logico immaginare ci sono ancora problemi per quanto riguarda l'individuazione della responsabilità in caso di incidente con anche le conseguenti questioni legate a eventuali rimborsi assicurativi. Insomma la guida autonoma di livello 3 è praticamente pronta almeno nella teoria poi nella pratica ci sono ancora un po' di dubbi per quanto riguarda il suo utilizzo almeno nell'immediato e un altro aspetto comunque non trascurabile è anche quello relativo alla fiducia che i guidatori avranno in queste tecnologie perché come sappiamo non è che funzionino proprio perfettamente io li uso veramente tanto e almeno una volta ogni 30 minuti devo intervenire per un errore di valutazione del sistema ma ci sta è ancora una tecnologia acerba anche se molto affascinante ma per ora purtroppo o per fortuna va presa ancora a piccole dosi dosi che apparentemente Mobileye azienda di Intel non sembra voler prendere a piccoli sorsi infatti sta realizzando navette elettriche senza conducente fino a 14 posti con sistema di guida autonoma di quarto livello che entro un paio di anni potrebbero già circolare per alcune strade statunitensi a velocità inferiori ai 60 km orari e sempre la stessa azienda prevede di lanciare un servizio di robotaxi in Israele e Germania entro la fine del 2022 e come già vi avevo indicato qualche settimana fa anche in Italia inizieranno questi esperimenti nello specifico a Torino in un percorso di 5 km i cittadini nel capoluogo piemontese potranno sperimentare delle navette elettriche senza il conducente prenotabili con apposite app e almeno per ora completamente gratuite il risultato è possibile grazie ad un'importante collaborazione fra Leonardo, Almaviva e Fincantieri e dovrebbe entrare in funzione a maggio in fase sperimentale non vedo l'ora che arrivino anche nella mia città anche se ho paurissima per la viabilità vi immaginate una di queste in panne in mezzo alla strada o magari coinvolte in piccoli incidenti perché si parla sempre di velocità bassissime quindi piccoli incidenti vabbè massimo 25 km orari, 30 km orari quindi non prevedo grandi danni ma con molte probabilità almeno inizialmente qualche problemino potrebbero causarlo e a proposito di problemini non mi stancherò mai di dirvelo ragazzi se cercate una carrozzeria andate da Carrozzeria Musesti il Tesla Body Shop ufficiale di Brescia e Provincia ma sono talmente bravi, professionali, amichevoli ed economici che i loro clienti decidono di raggiungerli anche da molto più lontano e se ve lo dico io ci potete mettere la mano sul fuoco e a proposito di fuoco ragazzi stiamo vivendo un momento molto particolare in questi giorni perché la rivoluzione elettrica sta facendo veramente paura ai governi e alle aziende perché sì ok l'avvento dell'elettrico è una cosa positiva ma il passaggio va fatto con estrema cautela sappiamo infatti che entro il 2035 si venderanno solo auto elettriche almeno questo è il diktat dell'Unione Europea questi dati sono già stati recepiti da molte case automobilistiche che hanno già annunciato da tempo un grosso rinnovamento del proprio parco modelli ad esempio nel 2030 Volkswagen prevede già che il 50% delle sue vendite saranno auto elettriche Toyota il 30, Renault il 90, Stellantis il 70 in Europa e il 40 negli Stati Uniti ma già diversi studiosi sostengono che ci saranno gravi ripercussioni sull'occupazione nel settore automobilistico stime parlano di 70.000 dipendenti in meno solo in Italia si tratterebbe quindi di riconvertire le linee di produzione concentrandosi su numerosi aspetti come sulla produzione di batterie visto che ad oggi il 70% di quelle che montano le nostre auto elettriche provengono dalla Cina o comunque da paesi asiatici bisogna poi occuparsi anche dell'installazione di colonnine problema che già abbiamo affrontato più volte e che purtroppo è sempre spinoso per noi elettronauti nel piano nazionale di ripresa e resilienza è previsto uno stanziamento di 740 milioni di euro per installare 21.200 punti di ricarica entro il 2026 e trattandosi di soldi provenienti dall'Unione Europea se non li spendiamo entro la data fissata ci verranno tolti ciò significa che l'Italia dovrà cominciare subito e soprattutto muoversi in maniera molto snella lo dico perché conosco i tempi e la burocrazia italiana in ogni caso ottime notizie per noi anche perché facendo così le colonnine si raddoppieranno rispetto a quelle che già ci sono oggi è chiaro poi che la commercializzazione esclusiva di auto elettriche deve passare anche da un importante aumento delle fonti rinnovabili perché non basta che l'auto sia elettrica serve che l'energia utilizzata provenga da fonti rinnovabili ad oggi in Italia solo il 38% dell'energia elettrica che produciamo è pulita così come è pulita l'energia elettrica prodotta con la fusione nucleare la settimana scorsa avevo fatto confusione tra fusione e fissione quindi perdonatemi in ogni caso entro 8 anni il governo italiano ha l'ambizione di arrivare al 70% di elettricità prodotta tramite fonti rinnovabili ma staremo a vedere nel frattempo il mercato globale sta venendo pian piano saturato di offerte elettriche anche con prezzi particolarmente interessanti come è il caso della Wheeling Mini EV presentata a luglio 2020 e auto elettrica ad oggi più venduta in Cina il modello ha avuto un consenso enorme con quasi 400.000 unità vendute l'anno scorso e ora si appresta a lanciare una nuova versione aggiornata dotata di un pacco batterie da 26,5 kWh che garantisce circa 280 km di autonomia in Cina costa il corrispettivo di 6.400 euro l'auto è lunga circa 2,90 m offre 4 posti e un design degli interni molto spartano ma non trascurato e sempre rimanendo in tema di auto compatte c'è da segnalare il ritorno della Mia un'utilitaria a tre posti conforme da minivan che era già stata proposta e disponibile anche in Italia già dal 2011 ma ovviamente senza i risultati sperati nel 2014 l'azienda produttrice fallì e solo recentemente la start-up tedesca Foxy Mobility ha deciso di rispolverare il progetto dandogli il nome di Mia 2.0 la lunghezza è di 320 cm e la posizione di guida è centrale e l'accesso all'abitacolo avviene attraverso due potiere scorrevoli poste sui due lati della vettura l'ampio spazio interno è stato ottenuto grazie all'impiego di una piattaforma a skateboard con le batterie collocate nel pianale tra i due assi sarà disponibile sia in versione privata che commerciale con potenze variabili tra i 54 e i 136 cavalli il motore è posizionato dietro ma in futuro arriverà anche a una variante a trazione anteriore con una potenza di 40 cavalli ad alimentare l'unità elettrica è presente una batteria che dovrebbe garantire una percorrenza di circa 220 km e nella fascia a primo prezzo si andrà a identificare sempre più anche il marchio Fiat questo infatti è quanto si capisce dalle parole dell'amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares il quale ha confermato per il futuro la 500 che continua a registrare ottimi dati di vendita e verrà affiancata da due nuovi modelli un piccolo SUV crossover elettrico che dovrebbe riproporre gli stili del concept di 120 e che dovrebbe costare circa 20.000 euro e una monovolume di dimensioni compatte che potrebbe essere udite udite la nuova Multipla costruita sulla piattaforma ECMP che adotta anche la Citroen EC4 diciamo che cambiano i motori ma l'idea iniziale di Multipla è rimasta la stessa e anche il design esterno ricorda molto la vecchia versione un pregio? e sarà compatto anche il nuovo modello di Cupra che dopo aver presentato di recente la Born sembra già proiettata verso un nuovo veicolo di dimensioni più compatte che tra l'altro abbiamo già avuto modo di vedere in un prototipo il suo nome era Urban Rebel certo rispetto alla versione prototipo il modello di serie sarà decisamente meno estremo credo però si farà anche se pare non prima del 2024 date piuttosto lunghe anche per Fisker la quale ha annunciato di aver aperto le ordinazioni per un nuovo modello si chiamerà Peer e costerà 30.000 dollari poco più di 25.000 euro e sarà il modello entry level della gamma Fisker ponendosi un gradino sotto il SUV Ocean che parte da 38.000 dollari così facendo la casa nota per la bellissima karma di qualche anno fa raddoppia l'offerta di automobili al listino la Peer che dalle prime immagini circolanti sembra che avrà il corpo di una vettura di una berlina compatta non sarà disponibile prima del 2024 e la casa madre la definisce già un veicolo urbano agile che è anche un po' la sintesi del suo nome visto che Peer sta per Personal Electric Automotive Revolution e non per Pera chi invece è destinato a debuttare a brevissimo in Europa è la nuova MG5 una station wagon di medie dimensioni che vedremo per le strade a partire dal mese di marzo la prima station wagon elettrica ragazzi una familiare di 4 metri e 60 centimetri interamente elettrica votata al comfort e alla versatilità e come possiamo vedere dalle prime immagini con una buona dotazione di serie i modelli previsti al lancio sono due la normal e la extended range con pacco batterie LFP rispettivamente da 50 e da 61 kilowattora e autonomia che va dai 320i agli oltre 400 chilometri insomma con MG la SAI che sta cercando di conquistare il mercato europeo rilanciando proprio un marchio storico e proponendo un'autovettura diciamo così più convenzionale per design e gusto agli standard del vecchio continente e il tutto a prezzi diciamo anche accessibili si parte infatti da 35.500 euro solo il tempo ci dirà se la scelta si rivelerà vincente io l'avrei preferita forse con una batteria da almeno 75 kilowattora però boh vedremo inoltre si sta parlando anche di una concorrente di Volkswagen ID.3 Cupra Born si chiama Cyber E e dovrebbe arrivare nel 2023 in Gran Bretagna per poi diffondersi nel resto dell'Europa ed occupare la fascia tra le 20-25 mila sterline prezzo abbordabile anche per la ora Lightning Cat nuovo modello del marchio appartenente al gruppo Great Wall che offre una vettura di quasi 4 metri e 90 centimetri a meno di 30.000 euro anche se al momento solo in Cina il motore avrà circa 200 cavalli e sarà alimentato da batterie LFP tutto bene insomma tranne forse che per il design che a me ricorda molto ma molto da vicino la prima serie delle Porsche Panamera che sia una strategia made in China per vendere qualche modello in più ed è proprio vero che non si sa più cosa inventare per attirare il cliente è il caso della Baid casa cinese che ha presentato l'ennesimo SUV elettrico chiamato Yuan Plus caratterizzato però da interni fantasiosi le prese d'aria sotto il display centrale assomigliano ad manubri che si usano in palestra mentre nella parte inferiore delle portiere dove ci sono i vani portaoggetti sembra di intravedere delle chitarre o meglio dei bassi le cui corde producono anche dei suoni quando vengono pizzicati ma non è tutto infatti questo SUV include un microfono sotto il bracciolo sulla console centrale anteriore che permette di cantare alle proprie canzoni del cuore sfruttando l'impianto audio a dire il velo non è l'unica macchina che dispone di questa funzione anche la cinese Linkenco 01 è un'auto decisamente social visto che propone una webcam integrata e un software di karaoke il tutto a circa 40.000 euro insomma in Cina bisogna cantare e condividere i propri momenti alla guida ma in realtà Baid realizza anche auto più convenzionali tra virgolette infatti al salone di Pechino che si aprirà il 21 aprile verrà presentata la Seal una berlina lunga all'incirca 4,80 metri e disponibile sia con trazione anteriore sia integrale con costi a partire da circa 30.000 euro e restando sempre in Asia la Genesis G80 EV pare che stia riscuotendo notevole successo il marchio premium di Hyundai ha proposto già l'anno scorso la sua grande berlina lunga 5 metri a un prezzo concorrenziale pari a circa 65.000 euro ha due motori elettrici per un totale di 370 cavalli che garantiscono un'autonomia di 430 km grazie al pacco batterie da 87,2 kWh inoltre le batterie sembra che resistano molto bene anche a temperature a meno 7 gradi infatti l'autonomia qui si riduce solo di 20 km i punti salienti di questa vettura di lusso sono il tetto solare un sistema infotainment evoluto e di grandi dimensioni 14,5 pollici e utilizzo di materiali ecosostenibili ed oltre alla G80 a Genesis poi dovrebbe lanciare anche il GV60 e il GV70 progressivamente anche al di fuori dal mercato asiatico anche se le date per ora purtroppo non sono certe un'importante concorrente della G80 elettrica invece sarà la NIO E-T7 la berlina cinese che fa paura anche a Tesla e che a fine marzo inizierà la distribuzione in Cina entro fine anno dovrebbe arrivare anche in Europa per la precisione pare che i primi mercati saranno Germania e Norvegia NIO afferma che l'ET7 sarà la prima auto elettrica prodotta in serie al mondo disponibile con un pacco batterie allo stato solido questo e la dimensione del pacco da 150 kWh la rendono anche la vettura con la più alta autonomia stimata in 1000 km secondo il ciclo CLTC tuttavia le batterie disponibili al lancio saranno più piccole e convenzionali da 75 kWh e 100 kWh il prezzo dovrebbe aggirarsi fra i 55.000 e 60.000 euro e oltre alla E-T7 sono stati avvistati i primi muletti di quello che dovrebbe essere le S7 un SUV elettrico di Casanio che si baserà sulla nuova piattaforma giornata NT 2.0 si parla anche per lui di batterie da 75 e 100 kWh e in futuro anche del pacco batterie allo stato solido da 150 kWh che promette appunto un'autonomia di 1000 km dovrebbe posizionarsi tra le S6 che è lungo 485 cm e le S8 disponibile a 6 o 7 posti che supera i 5 metri di lunghezza insomma anche NIO sta cercando di saturare il mercato con offerte sempre più interessanti e prestazionali dei suoi modelli e parlando ancora di auto di dimensioni importanti c'è da segnalare un certo movimento intorno alla futura serie 7 full elettrica che potrebbe chiamarsi i7 ma non diventare un modello a se stante rispetto alla serie 7 bensì solo una variante a trazione elettrica in realtà non si insa ancora molto su questo modello ma è plausibile che adotterà pacchi batterie da 80 e 120 kWh che offriranno un'autonomia di circa 500 km nel primo caso e 680 nel secondo caso in ciclo VLTP e per chi non si accontenta nemmeno della i7 dovrà aspettare la nuova Bentley Mulsanne completamente elettrica dotata di un pacco batteria da almeno 100 kWh e che dovrebbe lanciare anche la modalità di ricarica wireless i prezzi però ragazzi non saranno inferiori ai 300.000 euro e tra tutte queste auto ce n'è poi una che abbiamo già avuto modo di vedere di recente e se ve la siete persa vi lascio il link qui in alto a destra è la Polestar 2 che è stata rielaborata sotto forma di concept sportivo e chiamata Arctic Circle modificata per meglio dartarsi al freddo estremo questo modello ha 476 CV cioè circa 70 CV in più della versione di serie pneumatici chiodati e un'estetica molto vicina alle auto da rally con fanaleria supplementare per ora è un esemplare unico ma chissà se prima o poi potremo provare anche questa per oggi ragazzi è tutto noi ci vediamo a domenica prossima mi raccomando iscrivetevi al canale ciao